Bella raga, sono Fermer Marulli e sono sullo speciale di 355 video e 67 iscritti e io vorrei adesso salutare in questo video le persone che mi seguono di più tipo io sto caro Mike, poi Cam Williams, Dimitri Brunelleschi, 99G Andrea, Ant, Matteo Oxix, poi Samore Natarelli, Leonardo da Pagosta e poi anche Emiliano Lombardi e poi anche gli altri iscritti che li adoro poi vi voglio dire signori che farò anche lo speciale di carnevale e non ve lo dovete perdere quando lo farò e poi vi voglio dire anche una cosa che vi adoro in tanti e siete degli ottimi iscritti per me e quindi signori ci vediamo al prossimo video, ciao!